È il momento dei risultati del weekend calcistico appena concluso. Partiamo come sempre dalla Serie D. Queste le partite. Legnago Salus-Ambrosiana 1-0, Prosesto-Caronnese 2-2, Villa Dalmeci-Zerano 0-0, Caravaggio-Darfo-Boario 1-2, Como-Ginatese 1-1, Mantua-Scanza-Rosciate 1-0, Rezzato-Sondrio 3-1, Seregno-Villa-Franca-Veronese 1-0, Pontisola-Virtus-Bergamo 1-1. Sconfitta per il Sondrio che si trova a 25 punti in classifica. Il campionato di promozione è la seconda giornata del girone di ritorno. Luciano Manara-Casati-Arcore 2-2, Brianza-Cernusco-Merate, Colico-Derviese 1-0, Basiano-Masate-Concorezzese 3-0, Barzagoli-Sone 1-1, Dipovi-Mercatese-Menaggio 2-2, Biassono-Speranza-Grate 3-0, Altabrianza-Tavernerio-Viberonchese 1-2, Aurora-Calcio-Visnova-Giussano 0. Da segnalare la Colico-Derviese a 24 punti in classifica. In prima categoria, seconda giornata di ritorno, Olimpic-Morbegno-Ars-Rovagnate 0-0, Cosio-Valtellino-Besana-Fortitudo 0-1, Costa-Masnaga-Dubino 3-0, Chiavennese-Giovanile-Canzese 1-0, Calolzio-Corte-Grosio 1-0, Berbenno-Missaglia-Maresso 2-3, Arcadia-Dolzago-Olimpia-Grenta 1-3 e Albiatese-Vedugio 3-2. In classifica, prima posizione a pari merito per ben quattro squadre con 31 punti, Berbenno-Chiavenneso-Olimpic-Morbegno e Arcadia-Dolzago. 30 Olimpia-Grenta, 27 Vedugio-Emissaglia-Maresso, 25 Giovanile-Canzese, 24 punti Costa-Masnaga-Ears-Rovagnate, 23 punti Cosio-Valtellino, 17 Albiatese-15, Calolzio-Corte, 14 punti Besana-Fortitudo-Egrosio, 12 punti Dubino.